Ciao, tzps, piccoli! Siamo qui in Animal Crossing. New Leaf, welcome, amico. Buona domenica, anche se registro durante la settimana. Ma cosa dici Fuffi, che non ci ha visto con Arturo? Cioè, l'abbiamo preso l'altra settimana. Eh, che banda, che banda! Ok, allora, prendiamoci la lettera. Ciao Arturo, come stai? Chiude. Ricordiamo chi ci ha scritto. Da Maya, faccio una festa per il mio compleanno, il 21-4. Se veniamo sicuro... No, assolutamente no. Perché ce ne dimenticheremo. Allora. Ciao Ciccela. Ok. Fossile. Quanti soldini ha il nostro... Allora, paghiamo con Ciccela. Sei tu? Sì, siamo sempre noi. Blah, blah, blah. Ah, volevo vedere il nuovo personaggio arrivato. Dov'è che si è trasferito? Mi sa di qua. Isidoro, Martina, Brina, Verdonio. Andiamo a vedere chi è Verdonio. Presentiamoci a Verdonio. E lui? No, è Brina. Allora, questo di qua. Ale. Ciao Verdonio. Tutto a posto, Verdonio. Ma chi sei? Che animalletto sei? È un anatra. Ehi. Come ho fatto a non incontrarti prima? Ormai una settimana che sono qui. Incredibile. Beh, non importa. Io mi chiamo Verdonio e sono appena arrivato da Astrasola. Piacere. Quindi tu saresti Artù. Non si parla che di te. In città, finalmente ci incontriamo. Penso che ti chiamerò Artù. Ok? Quello il nome. Così sembra che siamo gli amici per la pelle. Va benissimo, non c'è male per congnuno. Guarda che cosa è in bambù. C'è anche il frigorifero Verdonio. Mi piace. Mi piace come ha arredato Verdonio. Allora. Cioè, tutti dietro la caffetteria si sono piazzate. C'è un traffico qua. C'è. Ma quanto mi piace, signora. Ehi, Artù. E' da un po' che non ti si vedeva. Quindi in città stavamo tutti iniziando a preoccuparci. Non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Allora. Allora. Ma che se ci fai con l'ascia? Via quest'ascia. Dobbiamo pescare un pesce. Vediamo se abbiamo catturato questo pesce. Uno. Due. Tre. Ero pronta per schiacciare. Eccolo. Questo mi sa che l'ho già trovato. Un perso. Eh sì. Questo era già in collezione. Allora. Non c'è nessuno in piazza. Fiori secchi. E chi c'è? Martina. Ah, vada. Che fortuna. C'era anche un pesce. Quindi la chiappiamo. Non volevo buttare la canna. Mi è andata di lusso. Uh. Ho preso un gambero. Ed è la prima volta che prende il gambero. Ulala. Chissà se c'è in collezione il gambero. Sai cosa c'è? Uno. Due. Tre. Ok. Secondo me c'è il gambero in collezione. Del museo. Però. Allora. Andiamo a caccia del sasso dei soldini. E non è questo. Questo? Non è questo? E' qua giù, è qua giù. Lo sento, lo sento. E' qua, è qua. Non è lui. Mi sentivo male. Sensazione o berze. Ok, erbaccia. Questo l'avevamo guardato prima. Però, nel dubbio. Qua su c'è qualche altra roba. A parte i fiori se... Ulala. Cosa vede nei miei occhi? Bene. Ottimo. Niente. Tra poco vado a farmi controllare i fossili. Niente. Ce n'era uno di sassi. Ricordo male. Ciao Greta. Questo qui però ve lo ricordo, ma non è lui. Ho mandato via la cocciunella. Questo no? Questo? E niente. Non è nemmeno lui il sasso dei soldini. Però qui c'è una stellina. E dà una trappolina. Ale. Rimina fatta. E ritappa. Avviso? No, no. No, palata. Avviso. Il prossimo torneo di pesca. Questo sabato. E non ci sarò. A cipicchere. A sasso. Ecco. Bene. A sasso tra i fiori. No, ho levato un fiore. Basta. Finito qui il gioco. Ho estirpato un fiore pesantemente. Ecco. Ho finito anche i posti. Lascia qui. E a tasche piene. 300. Bene. Ho preso anche il fiore. 800 pianta. Ci dovrebbe essere sì. Anzi c'è un altro dei soldini. Ho perso il conto. Quindi lasciamo stare. Ok. Ho preso anche questo. Comunque sicuramente sotto i 5.000. Allora. Ma qui c'è un traffico e porta via. Verdonia. Sì. È stata entrata prima. Punto. 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 Se chiedere spazzatura. Spazzatura. No. No. No buca. Secche spazzatura. Vai. Butta. Bene. Allora. Ho siccome un po' di fossili. Me le vado a far riconoscere. Arriviamo. Arriviamo. Eccoci. Eccoci. Sveglia pilandroni. Scedda a lavorare. Vieni. Siamo noi. Siamo sempre noi. Allora. Esamina un bel fossile. 1, 2, 3, 4, 5. Vai. Ce l'ha tutti. Blah, blah, blah. Sì. L'unica di fossile è quella che ho completato. Ma Volpole è una marea di tempo che non viene nella mia città. Ok. Donazione. Veniamo. Se il gambero c'è. Non si è infatti per niente. Perfetto. A posto. Volevamo essere sicuri. Allora. Andiamo a controllare un po' cosa c'è di nuovo. Da ago e filo. Che cosa c'ho ben portato? Da ago e filo. Allora. Gonnelline. Però. Questa che maglia è? No. Vedete reghi? Mi tengo il giacchetto. Mi tengo il giacchetto. E mi tengo anche questo cappello. Ciao, ciao. Ciao, vice. Non abbiamo fatto affare. Beh. A posto. Vado a vedere quanto è il mio debito. Che non ricordo. Con calme. Benvenuto. Se non c'è un'esercizio di opzioni. Restituisci il prestito. 45.000. Vabbè. Dai, 5.000. Et voilà. Prego. Salve, salve, signora pellicana. Allora. Adesso voliamo con le nostre scarpettine verso città nostra. Vediamo un po' di andare da Alpaca e farci valutare i nostri fossili. Vediamo quanto riusciamo a raccimolare. Vado bene, non è cliente. Sì, siamo sempre noi. Anzi, un cliente. Come possiamo darti? Guarda, compraci queste. Quì. Vedo quante roba. Vedo quante roba ci sarà. È tutto. Beh, comincerò subito a fare i conti. Cerca di valutare bene. Vabbè. 22.000. E andiamo. Grazie tante Emma. Prego, prego. Ecco, Martina ci ho chiacchierato. Allora. Ah, vediamo un po' che missioni in seconda ci sono. Ah, ecco, raccolta fossili l'abbiamo fatta. Perfetto. Importazione in misa, iniziativa degli scarabèi. Iniziativa, rimboscimento. Quindi devo piantare roba. Intanto andiamo a scuotere il nostro coupon civico. E ricevi. Sì. Et voilà. E grazie. Ok, un salto sull'isola. Cercare di racimolare i punti foglia. E via. Ci si vede subito là. Sono sull'isola, ho già prenotato un tour. Perché devo arrivare a 50 monete fogna. Giardino facile. Principalmente posso arrivare al giardino. Con preziosi. Usa la palla per scavare e trovare i coppi oggetti. Sto fatto. Labyrintho facile. Ok, facciamo il labirinto. Esatto. E andiamo verso il labirinto. Bene. Mi mancano poco. Poi vi faccio vedere come si fa ad andare sul clavetor timer. A stipulare il contratto. Ma non ce la farò nemmeno oggi. Salve ragazzino. Grazie per aver scelto il labirinto facile. Questo tour offre la possibilità di esplorzamento che abbiamo creato sull'isola. Bisogna trovare la frutta nascosta e l'abirinto dentro il tempo di 5 minuti. Il frutto per cercare è la pera. Trovo i 5 e vincere la medalha. Ok, 5 pere, vai. Via, 5 pere. Via. Allora andiamo di sotto, di qua. No? Qua vi ho visto. Una pera. Eccola. Racata. Ci servono le pere. Di sotto. Limone. Pera. Pera. Due. Limone. Pera. Tre. Era ben nascosta ma l'ho vista. Quattro. 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 Banana. Cipicchiolina. È rimasta solo una. Limone. Limone. Limone e cacchi. Ah. Guardate quanto ci pastoria questa pera. dobbiamo. Eccola lì. Eccola lì. Eccola lì la pera. Yeah. sì. Vai. Vai. A posto. Paraparaparaparapara. Mi sianta bene. Ci siamo. Il tour è finito. Cioè proprio. Tutto quello che volevo. Hai visto? Siamo stati bravissimi. In tempi record. Occhi è. Ho deciso. Sei medaglie. Spero che si sia piaciuto. Il labirinto facile. Sì sì sì. Sei medaglie. Ero a. 35. Quindi sono a 41. Vieni. Allora. Per stipulare il contratto. Bisogna andare su questo foglio qui. 40 no. Allora quindi. Ero a 34. Infatti mi sembra. 50 mi rimane. Per ora no. Ma che non ce l'ho. E quindi. Niente. E ne provo a fare un altro. Dai un altro minigiorno. Sia così che si può interrompere. Si va prima. Prenuoto un tour. Immersioni granchi. Ti piace granchi? Se risposte sia allora il tour di immersione. Per i principanti. Sì. Però questo è il pochino più difficile da trovare. Che è questo niente. Cos'è per scavare. Un tour di giardinale. Dove anche facciamo questo. Ma si dai. Facciamo questo. E si fa la svelta. Esatto. Con le immersioni ci vogliono più. Quasi 5 minuti. Cioè bisogna di fortuna. A trovare i granchi. Ah mi devo mettere la sedena. Ha ragione. Ramona. Scusami. A breve. Il tour. Giardinale. 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 Salve ragazzi. Sì. Ok. Via. Via. Dai dai. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Riempiamo tutte le classi. Sette. Vattro. Nove. Dieci. Undici. Dodici. Tredici. Tredici. Quindici. Sedici. Sette. Ah. Quindi. Sedici. Sedici. Lasciami. Sedici. Arriviamo. Arriviamo. Quindi. Uno. Due. Poi. Tre. Quattro. Così deve andare. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. E dieci. Quindi. Ancora. Pianta. E pianta. Allora. Cinque. Facciamo dieci. Enzioni più cinque. Cinque dieci. Cinque. Undici. Ma la riempa. Uno. Due. Serebbero nove. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. E uno. Ci va. Il torno giù. L'abbiamo preso anche di più. Ci vuole più tempo. A piantarle. Ci vuole. Che a raccoglierle. Pianta. 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 Ok. Pianta. Pianta. Pianta anche questo. E pianta anche questo. Ale. Il torno è finito. Yeah. Anche questo in minor tempo l'abbiamo fatto. Ok. Ben fatto giovinastro. Vediamo come è andata la tua prova. Che cosa. Che prova spettacolare. Sei medaglie. Bene. Quasi quasi mi rifaccio un'altra di quella del labirinto. E così stipulo già oggi il contratto. 46. Per ora no. Ok dai. Un altro labirinto. Parte. Pronto un tour. Dai dai. Chi lo voglio. Lo voglio finire. O il labirinto. O anche quello delle coppie. O faccio anche quella delle coppie. Esatto. Dovrei farcela. Andiamo. Se si trovano subito al volo. Dai dai. Voglio aprire il contratto. A stipulare il contratto. Perfetto. Va bene. Perché c'avevo in tasca. Mi ha fatto questo lavoro. Perché c'avevo in tasca i fiori che avevo preso prima. Va bene. Va bene. Non importa. C'ho da stipulare il contratto del club tour timer. Va bene. Lo sappiamo che funziona. Dai. Va bene. Dai dai. Vai. 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 Via. E' il memory di Animal Crossing questa. Vai. Allora. Coppia. No. Qui. Ho trovato un robot comodo. Un robot comodo. Qui. No. Non è lui. E' il robot comodo. Toilette. Ah qua. Cos'era lì? Non mi ricordo che cosa ho trovato lì. Trovate qua. Mi ha scritto io antico. A robo comodo. Non mi ricordo che cosa ho trovato la sveglia. No. Forse era questo che l'ho trovato. Di là. Ma quanto mi fanno soffrire per un robot comodo? Ah. Ho trovato. Allora. Ho una mini. Quello lì. Era questo. Vediamo se è lo stesso. Sì. Bene. Poi. Scritto io antico. Quale? Se non mi ricordo male. Sì. Perfetto. Ok. Lì non mi ricordo che cosa c'era. Le tappo vai. Tino fuori del macello. Ho trovato una sveglia. Sì. Era lì accanto. No. Era la tua età. Allora è sopra. No. Allora era quella che avevo già trovato la sveglia. Pronto? Sì. Qua. Qua. Era quella che avevo già trovato. Mi avevo svegliato. Perfetto. Fossile. Vai vai. Dai dai dai. Che ce la facciamo prima del tempo. E qua su. Ottimo. E ci rimane l'ultima coppia. Questa. La toaletta pura. Sì. E ne è rimasta solo una. E qua su. E vai. Vittoria. Ok. Possiamo stipulare il contratto. Del club. Tortainer. Spero che ti sia piaciuto. Vai vai. Vai 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 vai. Ed eccoci. Vai. Sì. Sì. Oh sì. Ce l'abbiamo fatta. Riempiamo insieme questo modulo. Allora. Vediamo un po'. Artù di Stratula. Diventa membro. Oggi 18 aprile 2018. Sì. Da. Adesso sei ufficiale membro del club. Tortainer. Lasciamo tessere. Del ricostrino di riuscimento. Avviso mio figlio. E sei a posto. Se vuoi altre informazioni. Chiedi a mio figlio. Quando ti trovi. Da solo. Imbarca con voi. Oh yeah. E quindi. Con questa. Attivazione del club. Tortainer. Io vi saluto. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qua. E spero che vi sia piaciuto. E se vi è piaciuto. Mi raccomando. Vi dite un mi piace. Commentate. Iscrivetevi al canale. Se ancora non lo avete fatto. E soprattutto iscrivetevi al canale Twitch. Dove ci sono i live. E adesso potremo andare sull'isola. Non solo con stratoxina. Ma anche con tu. E un mega ciao a tutti. E alla prossima.